Dare risposta ai cittadini di Patti che hanno contestato bollette idriche con importo anomalo. Questo si sono prefissi i consiglieri comunali del gruppo Patti nel Cuore, Enza Stroscio e Cesare Messina. Il gruppo, che è a sostegno dell'amministrazione Aquino, ha verificato che ci sono alcune bollette idriche che giacciono nei cassetti del comune. Sono state contestate perché presentano importi anomali. Da qui hanno predisposto una proposta di modifica del regolamento idrico comunale. Vogliono regolamentare i casi di consumi anomali dovute a perdite occulte e dell'esigenza di portare a definizione le stanze di quanti, tempestivamente nel corso degli anni, hanno lamentato questo tipo di inconveniente senza aver avuto alcuna risposta. Con l'approvazione di questa modifica, in caso di perdita occulta, l'utente, che prontamente la segnala e dimostra, attraverso l'ausilio dell'ufficio tecnico o dell'ufficio acquedotto, di essere stato vittima inconsapevole di una perdita non visibile, come nel caso di perdite verificatesi in tratti di tubazioni interrate, può fare istanza per una rimodulazione della fattura da pagare, che tenga conto come parametro di riferimento i propri consumi medi. È bene specificare che non si tratta di alcuna sanatoria, hanno evidenziato i consiglieri Stroscio e Messina, ma di dare risposta a quei casi che effettivamente rientrano nella casistica che si vuole regolamentare e togliere alibi a chi, schermandosi dietro presunti errori dell'ufficio, non adempia al proprio dovere di pagare il giusto dovuto. La proposta è attualmente al vaglio degli uffici comunali per il parere tecnico, poi andrà in prima commissione consigliare e infine per il voto in consiglio comunale.